Ieri c'è stata l'apertura anche dei saloni di barrocchiera. Siamo qui nel salone Selce, l'accoppiata Angela Massimo. Iniziamo da Angela. Come è andata l'apertura? Buongiorno a tutti. L'apertura, la verità, l'aspettavamo sia noi ma soprattutto le nostre clienti. Ci hanno aspettate tutte, soddisfatte e veramente ci stanno venendo incontro. Perché adesso con questi distanziamenti siamo un attimino un po' più rallentati. Però la verità, siamo partiti bene. Benissimo, grazie. Passiamo ora a Massimo. Salve, allora è stata un'emozione perché dopo 70 giorni di chiusura è come aprire la prima volta un negozio. Abbiamo rispettato in toto tutte le normative di protezione, forse ancora di più perché siamo una struttura, una famiglia che per noi l'igiene è in primis ad ogni cosa. Quindi il metro di distanza noi abbiamo fatto due metri, igienizzante, tutti i prodotti, mascherine, FFP2 per i dipendenti, visiera. Tutto il resto che c'era possibile l'abbiamo fatto ancora di più della normativa che c'era. Quindi penso che siamo partiti alla grande sicurezza, al 100% e quindi aspettiamo tutte le nostre clienti per accontentarle sempre di più al nostro meglio.